Nick Trost Andiamo alla routine Abbiamo un asso di picche in mezzo a due giolli Ora un piccolo gesto L'asso di picche si gira di torso Ma se noi prendiamo un giolli e lo mettiamo in mezzo E lo scuotiamo Questo torna a essere l'asso di picche In mezzo a due giolli Giriamo il tutto dentro la mano Faccia in alto E ancora una volta vediamo come La magia interviene in quanto Tutte e tre le carte Sono diventate tre assi di picche Ma In realtà Sono sempre Tre giolli E tre giolli ovviamente Da dorso blu A meno che noi non mettiamo In questo nostro Gesto Un qualcosa di molto più magico Che ci permetterà di fare Questo Avere una carta rossa con una X sola Qua abbiamo un giolli Qua abbiamo un secondo giolli Qua Il nostro asso di picche Una di quelle routine Pug trick Chiamateli come volete Che non hanno parole Belle Belle di loro In una così piccola routine Un grosso contenuto magico Andiamo al tutorial Ok per fare questa routine Tre giolli A dorso blu E un asso di picche O di cuore Quello che volete voi A dorso rosso Con una bella X Segnata sul dorso Un giolli Lo giriamo Dorso in alto In mezzo E l'asso in cima Questo è il nostro setup Ripetendo Il giolli a dorso blu Un giolli a dorso blu Rovesciato di dorso Un altro giolli a dorso blu Di faccia E sopra questo L'asso di picche A dorso rosso Segnato con una X Allora Tutta la routine Si basa su una tecnica Di ascanio Che è un'apertura di ascanio Che si può fare Prendendo la prima da sotto E la prima da sopra E lasciando il corpo centrale Due come una Io Personalmente la faccio Pelando la prima E poi da sotto l'ultima Non credo ci sia Molta differenza Dal fare questo Quindi questo Ho da fare Questo E quindi questo Non lo so Io oramai La mia abitudine è questa Però la prima E poi l'ultima Ok Per aiutarmi Fletto pure un pochettino Le curvo Le carte Maniatale Che mi viene quasi più Naturale Ricordiamoci che Non usciamo dal corpo centrale Sempre con una doppia Allora Capito qual è la tecnica Andiamo alla sequenza La sequenza è questa Facciamo una prima apertura Di ascanio E portiamo la doppia In cima Dicendo un asso di picche Between Tra due jolly Piccolo gesto A little Magical gesto E Rifacciamo Ancora una volta Un'apertura di ascanio E questa volta Mostriamo come l'asso L'asso si sia girato Di dorso In realtà Qua abbiamo Sempre la nostra doppia La estraiamo La portiamo Sopra il primo jolly Che prendiamo Insieme alla doppia E usiamo come paletta Per girare Il secondo jolly Diciamo adesso Con il jolly al centro Chiudiamo Piccolo gesto magico Ancora un'apertura di ascanio E ancora una volta L'asso Prende il posto del jolly In realtà Abbiamo sempre una doppia Ricordiamoci Dal centro esce sempre una doppia Usiamo questa doppia Per girare faccia in alto Due jolly Poggiamo sopra la doppia Giriamo la mano Dorsi in alto E spingiamo avanti Le tre carte Per il pubblico Quattro per noi Ovviamente Le torniamo faccia in alto Ancora una volta Le giriamo di dorso E facciamo una frustration Caldo Ossia mostriamo L'asso di sotto Prendiamo la prima di dorso Ancora una volta L'asso di sotto E prendiamo la seconda di dorso E mostriamo l'ultima volta L'asso Come se avessi mostrato Tre assi Quindi Ripetendo La frustration È mostrare Sempre la stessa carta Prendendo la carta dal dorso Quindi Uno Due Tre Questo che cosa ci porta Ci porta a far sì Che le carte Si mettono In maniera Che Andando a fare Un'apertura di schieno Diciamo In realtà Non sono tre assi Ma sono tre jolly Ricordatevi Quella centrale È sempre una doppia Che noi prendiamo E andiamo a mettere sopra Giriamo di dorso Ancora una volta Abbiamo messo le carte In maniera tale Che se facciamo Un'apertura di ascanio Si vedono tre dorsi blu Portiamo la doppia in cima Diciamo di fare un piccolo gesto E ancora una volta Apertura di ascanio Doppia Ovviamente Sempre in cima Teniamo dorsi in alto Questa carta Non riveliamola subito Intanto facciamo Posiamo la prima Che un jolly Mostriamo E poi mostriamo Giriamo il secondo jolly In doppia E lo lasciamo sul tavolo Ora Con tutta serenità E tranquillità Giriamo l'asso Ok Proviamo a racchipitolare Un attimo la sequenza Abbiamo detto Si parte con questo ordine qua Prima fase Ascanio Apertura di ascanio Doppia In cima Quindi Ok E giriamo di torso Sotto queste tre L'ultimo asso Chiudiamo Terza fase Apertura di ascanio Doppia La tratteniamo La tratteniamo Ma facendo il gesto maggio Ma facendo il gesto maggio Quello vero Sempre con un'apertura di ascanio Teniamo via la prima Portiamo via di faccia la prima E la doppia Come potete vedere A questo punto Mostriamo l'asso di picchia Questa era la routine Cioè quella tecnichetta Chiamata scanio Per il gesto di ascanio Ma viene che si tratta Di due carte E facilissimo Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti